Musica Riprendiamo il collegamento dal Vertucci di Teggiano per seguire il secondo tempo di Valdiano Audax Cervinara le squadre ritornano in campo con l'Audax Cervinara in vantaggio 1-0 ha deciso il primo tempo la rete di Diego Zerillo che è sotto proprio la nostra postazione in questo momento il signore Striamo di Salerno ha dato il via primo pallone che viene giocato dall'Audax ma subito recuperato dal Valdiano non ci sono stati al momento avvicendamenti nelle due squadre calcio d'angolo per il Valdiano sulla palla ora c'è il numero 8 Joff grande movimento in area vediamo che i protagonisti spintonano sotto lo sguardo di Striamo c'è il rinvio dei difensori dell'Audax Cervinara che ora sta subendo le iniziative del Valdiano che va certamente alla ricerca del pareggio visto che la squadra erpina si trova in vantaggio 1-0 pallone recuperato per un attimo dall'Audax ma ancora il Valdiano che si propone e ora c'è questa rapida ripartenza con Zerillo Zerillo che supera un avversario attaccato da Joff guadagna il fondo Zerillo mette in mezzo ma sbaglia la misura e la sfera che termina direttamente a fondo campo Zerillo sempre molto pericoloso è l'uomo che sta decidendo il match in questo momento la sua rete giunta al minuto 17 su imbecchiata di Befi l'altro attaccante bomber del girone B c'è Staro che prova a mettere in movimento un compagno intanto c'è Zerillo il solito Zerillo davvero a tutto campo prezza i soldi lotta con un paio di avversari ma poi c'è Guida che riesce a guadagnare la rimessa laterale Iaquinto va ad incaricarsi della battuta con le mani Befi anticipato pallone che viene controllato ora da Casella che appoggia su Giba Giba mette in movimento l'ottimo Ducure che ha un controllo straordinario mette in mezzo a cercare Coquen anticipato questa volta dal numero 25 Taddeo che mette la palla in corner secondo corner per il Valdiano in questa ripresa la squadra di Nastri è partita molto decisa e motivata in questa ripresa prova a ristabilire il vantaggio ancora Gioff va ad incaricarsi della battuta palla in mezzo c'è un colpo di testa che però non impenserisce Stasi che va a bloccare senza problemi la battuta di Trezza di Esposito chiedo scusa sono passati 5 minuti nel corso di questa ripresa e il risultato resta immutato rispetto a quello che abbiamo accennato alla ripresa del secondo tempo con Laudac sempre in vantaggio 1-0 intanto Casella non riesce a guadagnare la rimessa con le mani in quanto il difensore si porta la palla oltre la linea bianca Ricci rinvia a cercare Befi anticipato ottimamente da Esposito Casella prova a servire Coquen che va a guadagnare questa rimessa ancora con le mani affidate al solito Casella vediamo che c'è Joff guarda verso Trezza Trezza mette in mezzo a cercare ancora Coquen sponda per Giba ancora Joff Zerillo pallone che viene controllato dalla Laudac con Zerillo che riesce a tenere il pallone in campo Zerillo prova ad andarsene cade a terra l'arbitro sotto lo sguardo dell'arbitro che non vede nessun fallo e ora c'è la rimessa laterale con il Valdiano Giba va a recuperare la sfera intanto all'inizio della ripresa si sono accesi anche i riflettori questa volta recupera un buon pallone i soldi palla in mezzo per Coquen ecchi ha provato ancora la sponda su Ducure lo avrebbe messo intanto c'è questa la rimessa con le mani è sbagliata questa volta di Isoldi e di fatto viene regalato il pallone alla Dax Cervinana ma intanto il Valdiano il Valdiano si sta proponendo con una certa intensità in questa ripresa va alla caccia di questo pareggio che a dire il vero meriterebbe perché dopo aver subito lo svantaggio gli uomini di Nastri hanno cercato con convinzione con determinazione la rete del pareggio intanto Giba Giba la palla sta per arrivare a Coquen ancora Trezza che prova in lungolinea in mezzo Ricci Ricci perde palla intanto Ducure 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 sbaglia in maniera clamorosa avrebbe dovuto battere a rete ha preferito servire ancora Coquen ma sbaglia questo al minuto 8 della ripresa grande opportunità per il Valdiano di portarsi in parità ma Coquen Ducure ha tirato ha passato meglio verso Coquen e sbaglia e sfuma meglio una grossissima opportunità per la giugrana di Nastri ma il Valdiano sta pigiando davvero in maniera intensa il piede sull'acceleratore a caccia di questo pareggio che meriterebbe i soldi Corsaro all'indietro per Esposito Esposito supera Befi guadagna metri appoggia su Casella Casella effettua questo lancio Maricci lo controlla molto bene e poi c'è Brogna Brogna che guadagna metri ancora Brogna metti in mezzo a cercare di zerirlo i soldi i soldi e c'è ancora zerirlo zerirlo entra in area ma va a chiudere ancora i soldi che allontana il pericolo poi c'è Casella che spazza e allontana il pericolo ancora Coquen Coquen pallone per Corsaro Corsaro per Coquen 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 ha preso Diucurè Diucurè entra in area Diucurè alle prese con un avversario prova il tiro e la palla davvero va a lambire la traversa ma davvero una spina nel fianco Diucurè per la retroguardia al decimo minuto ancora lui il calciatore Ivoriano intanto viene ammonito il portiere Stasi perché perde un po' di tempo l'arbitro Stasi questa volta e vediamo che c'è anche la prima sostituzione la prima sostituzione del Valdiano esce il numero 4 Corsaro vediamo entra il numero 20 Pequeneda quindi dal undicesimo della ripresa non vedremo più in campo Corsaro al suo posto Pequeneda intanto il Valdiano davvero molto diverso soprattutto in questa ripresa sta cercando con insistenza la rete dell'1-1 una rete che meriterebbe alla luce di quando sta facendo vedere contro la capolista capolista che sta vincendo qui a Teggiano Trezza rinvie in avanti dove non ci sono uomini in casacca a Zulgrana la palla arriva direttamente a Faggiano che appoggia a suo esposito Casella Casella per Giba attaccato da un paio di avversari ma la palla arriva in qualche modo a Ducurè Ducurè che la tiene in campo Ducurè effettua questo traversone Ricci spazza lontanissimo ma il Valdiano ci crede e ancora una volta i soldi sbaglia la rimessa laterale precipitoso precipitosa la battuta del numero 2 del Valdiano i soldi davvero bravo ma questa volta è inchiappato per la seconda consecutiva intanto vediamo che anche una sostituzione Ricci viene sostituito ed entra il numero 11 Fusco quindi siamo al 14esimo quindi c'è Fusco Fusco al posto di Ricci quindi anche Giuliano prova a mettere forze fresche in campo il precedente in precedenza dicevamo i soldi aveva già sbagliato una rimessa laterale vanificando un'azione vediamo che non accada più perché si va a vanificare quanto di buono si sta facendo Cestaro per Coquen Coquen prova il triangolo intanto c'è Joff scarica intanto Casella Casella in avanti ma è troppo profondo il suo rilancio e arriva direttamente tra le braccia di Stasi Cervinara Cervinara continua a rimanere in vantaggio di una rete a zero Gerillo con poi commette fallo Gerillo su i soldi l'arbitro se ne avvede Casella Casella per Coquen anticipato palla che arriva a Joff ottimo il controllo del numero 8 del Valdiano che scarica ancora su Diucurè 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 mette il pallone a Coquen Coquen lo scarica sul numero 20 Peccheneda attaccato prova a guadagnare mette in mezzo dove non ci sono casacche a Zulgrana e la retroguardia anticipa intanto Trezza esposito esposito palla per Giba Giba cambia gioco a chiamare in causa ancora Diucurè 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 si accendera mette in mezzo ma questa volta va a recuperare ancora il pallone mobilissimo scarica su Gioff Gioff mette in mezzo e c'è la palla che arriva a Giba e c'è la conclusione l'intervento di Stasi che va a recuperare ancora Cestaro prova a effettuare un'interversione il Valdiano davvero in questo momento è tambureggiando l'azione degli uomini di Nastri ma in qualche modo si salva la formazione di Giuliano ancora esposito esposito per Gioff Gioff cambia gioco a cercare il solito Diucurè questa volta lascia la palla preferiva ovviamente un pallone a terra e sicuramente deve recuperare un po' di fiato l'Ivoriano che sta davvero correndo tantissimo e creando notevoli difficoltà alla formazione ilpina intanto c'è ancora un pallone spazzato senza senza pensarci due volte da parte della retroguardia dell'Audax Cervinare che sta difendendo con i denti dagli assalti del Valdiano ancora i soldi che effetto questo lungo lancio che va a creare qualche problema a Stasi questo quando siamo giunti al quindicesimo al sedicesimo c'è stato questo tiro di tiro cross di i soldi che stava per sorprendere l'estremo difensore Stasi il quale ha dovuto ricorrere al calcio d'angolo per evitare guai maggiori intanto c'è questo traversone palla in mezzo palla che arriva a Coquen ma si immola possiamo dire il difensore e poi rinvia ma palla arriva Giba e c'è il gioco falloso di Zerillo che prova a guadagnare il tempo e perde Zerillo ha voluto fare un po' il furbo in questa circostanza guadagnare secondi l'arbitro già era intervenuto ma Zerillo ha proseguito l'azione e si è salvato da una certa munizione ora c'è il calcio di punizione per il Valdiano affidata al solito Omar Zoff Valdiano che davvero sta giocando bene meriterebbe e lo ribadiamo con forza il pareggio ci sta credendo sta mettendo davvero alle corde quest'audax Cervinara che è forte del vantaggio sta difendendo con i denti intanto pallone in mezzo ancora un corner per il Valdiano che rimane in fase d'attacco un Cervinara chiuso tutto rintanato e che in questo momento come vedete dalle immagini della nostra telecamera guidata splendidamente da Pierrigi Pacillo tutto tutto rintanato nella propria area a difesa del prezioso vantaggio ancora Gioff vediamo che sono tutti ammucchiati vicino alla porta intanto Gioff palla in mezzo e c'è ancora uno strepitoso intervento di Stasi davvero eccezionale questa volta i riflessi del giovane e Ander quando siamo giunti al diciottesimo ma ormai stiamo contando solo azioni del Valdiano prima o poi dovrà crollare questa strenua difesa della formazione irpina che vuole ancora Giba ora c'è una punizione chiamata per intervento suggerillo che da esperto rimane a terra e guadagna secondi su quest'azione di esposito facendo finta di aver subito chissà quale fallo ma Zerillo ci sta è un esperto e quindi guadagna anche la chiamata l'ingresso in campo del suo Masser del suo e quindi guadagna secondi preziosi noi ne approfittiamo anche per ricordare che ieri si sono giocate cinque partite Costa d'Amalfiagopoli 2-1 il clanese Faiano 1-1 Sant'Agnello Santa Maria 1-1 Virtus Avellino Castel San Giorgio 1-1 è solo fra San Vito 4-3 intanto oggi sugli altri campi si gioca Battipagliese Palmese la Battipagliese la Battipagliese sta vincendo 2-1 invece il Sant'Omaso sta vincendo 1-2 il Sant'Omaso a Scafati e quindi la Battipagliese sta vincendo con la Palmese questo è un risultato che potrebbe star bene al Valdiano in quanto la Palmese resta in vantaggio e resta quota 11 il Valdiano dovrebbe almeno parreggiare e invece come dicevamo il Sant'Omaso sta vincendo in questo momento 2-1 anche se ancora non è stato aggiornato sui siti ufficiali ma un risultato che sicuramente va bene per il Valdiano ma Valdiano che deve cercare di portare a casa almeno un punto in questo match molto complicato con la capolista Gib prova a ripartire a spezzare il ritmo la formazione ancora Brogna mette in mezzo ma va a chiudere molto bene questa volta Esposito Diucure Diucure non riesce a tenere il pallone in campo siamo al 21esimo della ripresa il risultato questa Brogna e c'è un'azione fallosa e questa volta viene ammonito Esposito il primo ammonito del Valdiano e quindi anche Esposito è ammonito secondo ammonito della giornata da parte di calcio di punizione per Laudax Cervinana con Russo Lillo che va calcio di punizione si allenta la presa del Valdiano sull'Audax Cervinana che è stato davvero alla corda ha tremato più volte la porta di Stasi ma ora sta per uscire questa punizione batte palla che arriva a guida vediamo che c'è Cocchino è la palla che arriva direttamente nella zona di Gianfranco Faggiano che invita i suoi ad allontanarsi e poi rinvia lunghissimo a cercare proprio Cocchino ora Casella Casella per Gioff Gioff cambia gioco a cercare il solito Diucure che mette a terra di prima serve Pecheneda Pecheneda effetto questo traversone lungo arriva nella zona di Cocchino all'indietro per Casella Casella prova ad andarsene ma guida guida poi riesce ad avere la meglio sul difensore del Valdiano e quindi il gioco riprenderà con una rimessa con le mani per la formazione Irpina ancora esposito cambia gioco a cercare sbaglia però questa volta esposito su Diucure questa volta in anticipo su Zerillo che ancora una volta da esperto qual è finge di avere chissà cosa ha ricevuto in testa un masso ma fa guadagnare metri e secondi preziosi alla sua squadra Valdiano che ci crede pallone che era uscito ancora vediamo i soldi lascia questa volta la battuta l'incombenza l'arbitro dice che c'è una posizione regolare non è rimessa con le mani ma è un calcio di punizione battuto da Faggiano c'è c'è Staro di testa c'è Staro di testa Brogna Brogna le prese ancora con Casella che riesce a fermare l'azione dell'Audax Cervinara e a guadagnare la rimessa laterale ancora Casella Casella che oggi sta giocando una buona partita il giovane difensore di Teggiano Befi Befi di testa alleggerisce i soldi su Gianfranco Faggiano che rinvia a cercare sempre il solito Diucure di testa la palla stava per arrivare a Casella ma arriva C'è Staro invece C'è Staro per Pecheneda Pecheneda ora c'è ancora Pecheneda che mette in mezzo a cercare C'è Staro C'è Staro forse c'era un tocco con la mano ma la retroguardia del ancora Befi molto bene per Zerillo Zerillo prova di andarsene prova di andarsene Zerillo fermato da Esposito che mette la palla in angolo ma ancora pericolosissimo Diego Zerillo calcio d'angolo per la formazione Irpina che sta conducendo 1 a 0 Valdiano che dopo una spinta davvero straordinaria ora sta tirando un po' col fiato e ne sta approfittando sicuramente la formazione Irpina che va a battere anche questo corner battuto un pugno di Faggiano allontana il pericolo ma ancora ora Giba ce l'ha rimesso laterale per il Valdiano che davvero sta giocando bene oggi meriterebbe quanto meno la divisione della posta almeno un punto contro una squadra di rango una squadra e c'è la rete di Peccheneda che va a superare Stasi e c'è la rete nel pareggio al minuto 27 grande rete di Peccheneda subentrato nella ripresa che sigla il meritato pareggio 1 a 1 quindi ristabilita la parità una rete meritatissima questa volta la conclusione del numero 20 del Valdiano ha sorpreso l'estremo difensore Stasi e ha portato il risultato sulla parità al 27 quindi al 28 si ritorna sulla parità Peccheneda grande tiro che ha sorpreso alla sinistra Stasi sigla l'1-1 una rete dicevamo meritata cercata e voluta dagli uomini di Salvatore Nastri con una ripresa davvero molto intensa e molto bella da parte di tutti gli uomini ora Zerillo prova a riportare in avanti i suoi alle prese con i soldi che gli ruba la palla e guadagna anche un calcio di punizione e questa rete ha fatto scatenare l'entusiasmo sugli spalti del Vertucci di Teggiano un Valdiano davvero molto bello quello che stiamo vedendo oggi al Vertucci non accadeva forse dalla seconda giornata quando riuscì a travolgere la battipagliese da allora prestazioni probabilmente buone ma non eccezionali come quella che stiamo vedendo quest'oggi e gli uomini di Nastri ci credono ci credono magari per riuscire a fare il colpaccio e anche grandi in giocate vediamo ora c'è questa grande combinazione con Peccheneira che mette ancora in mezzo pallone che viene recuperato dalla Triguardia e che affatica allontana il pericolo ma il Valdiano ora è davvero galvanizzato dalla rete del pareggio di Peccheneira qualche minuto fa ancora con Gioff 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 ancora per Peccheneira Peccheneira prova a servire un compagno poi c'è la rimessa laterale per il Valdiano c'è la rimessa laterale per il Valdiano c'è la rimessa su segnalazione di esposito già battuta dal Valdiano per Omar Omar Gioff sbaglia questa volta il suggerimento sugli soldi e questa volta ha fatto guadagnare qualche metro vediamo Zerillo Zerillo alle prese con trezza Zerillo mette troppo lungo questa volta Zerillo il pallone prova a tenerlo in campo e palla viene regalata a Casella che rinvia poi c'è Cestaro Cestaro per Coquen il numero 18 poi Conti ancora Coquen e c'è un fallo da Tergo commesso da Conti su Coquen intanto c'è una sostituzione esce guida entra il numero 17 Calandrelli quindi al trentunesimo trentaduesimo c'è la sostituzione non c'è più guida e che è un under entra Calandrelli altro altro under altro 99 Calandrelli che prende il posto di guida il 17 al posto del 27 quindi secondo cabbio nelle file dell'Audax Cervinara che davvero è stata messa alle corde dal Valdiano soprattutto in questa ripresa dove la formazione di Nastri ha cercato con determinazione volontà il pareggio e l'ha trovato con un gran tiro di Pecheneda subentrato a gara in corso intanto ancora una punizione vediamo vediamo che recupera il pallone ancora Diucure per Casella Casella che rilancia a metà palla che arriva in qualche modo a Coquen Coquen agisce sulla fascia destra vediamo Coquen supera prova superare un avversario gli viene sradicato letteralmente il pallone quindi può ripartire l'azione del Cellevinara con Calandrelli che ha preso il posto di guida ora ora c'è Pecheneda che prova a fermare e ci riesce perché questo rinvio anche di Giba che allontana il pallone intanto siamo sul punteggio di 1 a 1 al 33esimo una partita sicuramente molto bella quella che si sta assistendo in questa domenica di metà novembre a Teggiano tra la capolista del girone B e la squadra che per il momento non è più ultima dopo questo pareggio era in una sorta di testacone ma il pallone arriva a Befi il bomber ma questa volta viene fermato ma nell'azione subente intanto a grande recupero del numero 10 allora ottimo il suggerimento di Coquen Coquen per Ducuret che ha provato a restituire la palla ma il numero 6 a quinto ha messo la palla ancora in fallo laterale ma Valdiano che non pago di aver raggiunto il pareggio prova anche a vincere questa gara e sarebbe davvero importante vediamo la palla sui piedi di soldi che mette in mezzo rinvio pallone che arriva Gioff cambia gioco a cercare ancora Ducuret la palla che arriva quasi ha i soldi i soldi entra in area mette in mezzo guadagna un corner i soldi ottima prestazione di soldi quest'oggi ad eccezione delle due rimesse laterali una prestazione perfetta per il giovane difensore di Polla ancora un calcio d'angolo alla battuta va il solito Gioff Omar Gioff mette in mezzo palla che arriva agli soldi i soldi prova una conclusione questa volta fuori misura sbaglia tutto il bravo numero due del Valdiano 35 minuti 1 a 1 intanto si è ristabilita dal ventottesimo della ripresa la parità e che tra le due squadre nel primo tempo la rete di Zerillo Diego Zerillo aveva portato in vantaggio l'Audax Cervinara poi il Valdiano ci ha creduto e ha voluto fortemente il pareggio che è riuscito a trovare con il numero 20 Pecchineda che ha preso il posto di Corsaro è ottimo l'intervento questa volta di Esposito che rinvia però lo fa sui piedi del numero 19 Furno ma ancora il Valdiano che allontana il pericolo ora c'è Conti rinvia sbaglia la misura sicuramente la sfera non viene controllata dal compagno il numero 7 Rusolillo che la deve giocoforza far terminare in fallo laterale ora c'è c'è Geoff con calma appoggia su Giba lascia c'è un'azione fallosa su Giba che sarà per lasciare il pallone al compagno Stefan Coquen riesce a guadagnare un calcio di punizione importante punizione affidata al solito Geoff Gioff mette in mezzo a cercare la testa di un compagno ma la retroguardia dell'Audax Cervinare in questa circostanza la meglio vediamo Zerillo prova a servire un compagno a fare da sponda ancora rinvio a cercare la testa di fuori eccezione regolare siamo al 37esimo minuto risultato tra Valdiano e Cervinare di 1 a 1 alla rete di Zerillo nel primo tempo ha risposto Peccheneda ma intanto vediamo che c'è l'Audax che prova a portarsi in avanti e guadagna un corner vediamo calcio d'angolo per la formazione Irpina vediamo palla in mezzo c'è un tocco di mano proprio di Befi questa volta Striamo ha visto la giocata irregolare del capitano dell'Audax intanto vediamo che c'è ancora una sostituzione sempre per l'Audax Cervinare esce il numero 7 entra il numero 33 Petrone Petrone al posto di Russo Lillo al 38esimo Petrone prende il posto di Russo Lillo terza sostituzione operata da Giuliano che vede la sua squadra in affanno subire le iniziative del Valdiano che rinvio lungo di Faggiano palla che arriva a Gioff per prova di andarsene ora Brogna a cercare Zerillo Zerillo i soldi in avanti Petrone prova palla che arriva a Gioff lungo lancio a cercare uno tra Coquen e Jugurema alla meglio Stasi che anticipa tutti siamo al 39esimo minuto intanto c'è questo lungo rilancio a cercare Zerillo ma ha un ottimo controllo Casella Casella all'indietro per Esposito per Peccheneda anticipato questa volta Peccheneda ma la palla direttamente oltre la linea che delimita il terreno di gioco ancora con le mani intanto vediamo che dovrebbe esserci anche una sostituzione per il Valdiano esce il numero 10 Giba quindi al 40esimo esce Giba tra gli applausi del pubblico vediamo chi entra Prisciandelli Prisciandelli il posto di Prisciandelli per Giba questo al 40esimo minuto intanto vediamo questa volta viene rilevato dal direttore di gara Striamo un gioco falloso da parte del numero 7 del Valdiano Coquen che segna il calcio di punizione recupera i soldi i soldi per Diucure ancora l'Audax Cervinara che si propone ma c'è Casella in anticipo questa volta prova di andarsene mette in mezzo ma va a bloccare con sicurezza e tranquillità l'ottimo portiere Gianfranco Faggiano del Valdiano vediamo che rimane a terra un uomo del Giacquinto è a terra ha visto questa situazione Gianfranco Faggiano e con grande fair play ha spedito il pallone in fallo laterale per consentire ai sanitari dell'Audax Cervinara di portare i soccorsi proprio a Giacquinto che si si rialza intanto il numero 6 leggermente claudicante va a riprendere il posto mentre la bomboletta magica lo aiuta a minuto 42 lascia il campo per un momento Giacquinto leggermente zoppicante c'è la ribessa con le mani pallone che viene rispedito nelle mani di Faggiano che può così effettuare il suo lungo rinvio rinvio alto e lungo quasi a cercare la testa di Coquerno palla che arriva intanto vediamo che ancora una volta l'arbitro nota un'azione fallosa dell'attaccante di colore del Valdiano Conte per Zerillo va a bloccare Faggiano che poi con calma va a controllare il pallone guadagna altri secondi importanti forse a questo punto il Valdiano sta pensando di accontentarsi anche del pareggio contro una corazzata come l'Audax Cervinara dopo aver dovuto subire pallone che arriva a Calandrelli Calandrelli Befi prova a lanciare ma c'è Casella parla che arriva a Peccheneda Peccheneda supera un avversario scarica su Cestaro Cestaro è troppo lento e si fa soffiare il pallone avrebbe dovuto giocare meglio questa circostanza ma recupera ottimamente ancora grande giocata di Peccheneda che cerca ancora Coquen che forse subisce un fallo e così è infatti grande prestazione di Casella quest'oggi ma anche di intanto vediamo che c'è ancora una sostituzione del Valdiano esce Diucure davvero tra gli applausi Diucure perché ha fatto una prestazione straordinaria entra il numero 13 Antoi Diucure salutato Antoi ha preso il posto di Diucure il numero 13 ora lascia Diucure una prestazione ancora da 7 per Livoriano Antoi è entrato al posto di Diucure ballone direttamente di Joff tra le mani di Stasi che rinvia 4 minuti di recupero in questo momento si è alzato il cartellone quindi si è da giocare altri 240 secondi i soldi i soldi allontana a cercare Diucure Antoi Antoi per Cestaro che va a guadagnare un buon buona rimessa laterale c'è stato l'intervento del numero 11 Fusco i soldi i soldi per pressione degli Antoi per i soldi che ha provato a servire ancora Cestaro ma tiene il pallone ancora in avanti ancora per Coquen Coquen tunnelano in avversario ancora si è provato a darsene e poi Cestaro lascia lascia che la sfera termini ancora i soldi in mezzo per Antoi rinvia pallone che viene recuperato da Joff Joff si accentra e scarica su Coquen Coquen va verso la bandierina dell'angolo e va a guadagnare un preziosissimo calcio di punizione l'arbitro dice che assegna la punizione alla Laudax Cervinara calcio di punizione per Laudax Cervinara si continua a giocare ma siamo già nel recupero il rilancio che finisce direttamente la palla è uscita ancora una rimessa con le mani per il Valdiano con le mani va esposito per Antoi Antoi addomestica bene e va a guadagnare risultati dagli altri campi la battipagliese continua a vincere intanto vediamo che c'è ancora una sostituzione nel Valdiano esce il numero 11 Cestaro dovrebbe essere Coiro a prenderne il posto quindi esce Cestaro entra Coiro al suo posto 4-2002 intanto con le mani per Antoi Antoi va a guadagnare l'angolo per cercare di ma supera un avversario mette in mezzo pallone che viene recuperato proprio da Priscendelli che prova la conclusione e chiama ad un intervento straordinario l'estremo difensore Stasi c'è stata questa bella conclusione di Priscendelli che ha impegnato Stasi due under a confronto Stasi ha risposto alla grande alla conclusione di Priscendelli è il Valdiano che si avvia a concludere in avanti c'è questo calcio di angolo per il Valdiano Valdiano secondi preziosi per cercare di di tenere il punto su questo difficile campo di Teggiano intanto vediamo che c'è questo Gioff per Casella Casella per Priscendelli Priscendelli intanto si gioca ancora e c'è il triplice fischio Striamo dice che può finire così Valdiano e Adax Cervinara terminano sull'1-1 le reti nel primo tempo di Zerillo nella ripresa Peccheneda una bellissima partita quest'oggi al vertuccio di Teggiano e il Valdiano conquista un punto e sale a quota 9 lasciando all'ultimo posto il tranvito Positano e ottiene sicuramente un buon punto mentre il Cervinara con solido il suo primato si porta a 25 più 2 sul Santa Maria e mercoledì recupera con l'Agropoli il Valdiano dovrà recuperare una gara sempre con l'Agropoli molto probabilmente il 5 gennaio intanto Gerardo Lobosca e Pierluigi Pacillo che ha assicurato le riprese televisive vi salutano e vi danno appuntamento ad una prossima occasione buona serata Pagnese Pagnese 2-2 pareggia la Pagnese grazie a tutti Pagnese 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 Pagnese